Ciao a tutti e bentornati. Da quando nacquero i computer, nel corso degli anni ne sono stati creati moltissimi modelli. Nella maggior parte dei casi, di molti di essi, non ci si ricorda più nulla, ma altri, invece, sono stati talmente apprezzati a causa del design, potenza o delle innovazioni che introdussero, che sono entrati nei cuori e nelle menti delle persone. Nel video di oggi vorremmo riproporvi alcuni di questi computer, considerati da molti i migliori nella storia, quasi da definirsi dei mostri sacri. Quando si pensa al brand Atari, ci vengono subito in mente le console da gioco, ma Atari non era famosa solo per questo, perché produsse anche molti computer, tra i quali si può menzionare la famiglia di computer Atari 8-bit. Di questi computer Atari 8-bit divennero particolarmente famosi i computer Atari 400 e 800, che erano anche i primissimi della famiglia Atari 8-bit. Questi due computer vennero commercializzati dal 1979. Per quanto riguarda l'Atari 400, era il computer di fascia bassa ed era dotato di 8 KB di RAM, anche se inizialmente dovevano essere di 4 KB, mentre l'Atari 800 era il computer di fascia alta ed era dotato di 8 o 16 KB di RAM. Entrambi i computer, per rientrare nelle normative della Federal Communication Commission riguardanti le emissioni elettromagnetiche, venivano costruiti con telai in alluminio pressofuso e case in plastica rigida per schermare le onde elettromagnetiche. Inoltre risultavano essere anche molto resistenti, ma ciò ne faceva aumentare il prezzo di vendita. A livello hardware e prestazionale, sia l'Atari 400 che l'Atari 800 erano computer molto avanzati, soprattutto in campo grafico. Infatti, fino all'arrivo del Commodore 64 erano loro i PC più veloci e avanzati in ambito grafico. Inoltre, dal 1980 al 1982 superarono anche nelle vendite Leapol 2. Gli Atari 400-800, oltre ad essere molto usati in ambito aziendale, vennero usati moltissimo anche dai gamer, grazie al loro comparto grafico molto potente che permetteva di giocare a giochi particolarmente avanzati e vencenti. Ovviamente parlando per l'epoca. Comunque, negli anni seguenti Atari commercializzò nuovi modelli di computer Atari 8-bit fino al 1992. inoltre, inoltre, inoltre. Atari Home Computers, inoltre, 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 inoltre. Atari Home Computers. We've brought the computer age home. 1981 iniziò ad essere venduto e fin da subito ricevete un enorme successo, ben oltre le aspettative della stessa IBM. In alcuni mesi riusciva a vendere più di 40.000 PC. Il motivo era da ricercarsi nel nuovo concetto di costruzione, poco costoso ed altamente espandibile, per adattarsi ad ogni esigenza. Infatti, iniziò ad essere usato il termine IBM compatibile, per distinguere questa nuova categoria di computer. Comunque, IBM, per assemblare il PC 5150, utilizzava a moltissime parti i prodotti da terzi. Facendo così, andava a diminuire i costi di produzione e nel frattempo offriva un ottimo rapporto prestazioni-prezzo. L'essere perfetto Per quanto riguarda il sistema operativo, il PC 5150 di serie veniva venduto senza sistema operativo, ma IBM offriva tre scelte, tra cui PC-DOS, CP-M86 e UC-SD P-System. L'IBM PC 5150 fu talmente rivoluzionario e apprezzato che nell'arco di qualche anno c'erano già molti brand che producevano coloni del tipo IBM compatibile. Perché IBM scelse di rendere lo standard IBM compatibile uno standard aperto. Addirittura, negli anni a seguire, molti di questi brand riuscirono a superare IBM nella progettazione e costruzione di PC del tipo IBM compatibile. Infatti, al giorno d'oggi, IBM non produce più computer. il computer personal per aiutare una persona a essere più produttiva, per aiutare una persona a essere più creativa. E queste sono buone ragioni per una persona a sentirsi buona. L'IBM personal computer, veniva a scelte store all'interno del paese. Sir Clive Sinclair, con la sua azienda Sinclair Research, negli anni 80 creò uno dei migliori computer di fascia bassa, il Sinclair ZX Spectrum. Lo ZX Spectrum venne progettato da un piccolo team di ingegneri tra 1980 e il 1981. Il nome in codice che gli fu dato durante la progettazione fu ZX82 o anche ZX81 Color, perché era il successore del ZX81. Il Sinclair ZX Spectrum era un computer notevolmente migliorato rispetto al precedente ZX81, visto che era dotato di audio e di modalità video colori. Infatti, il nome Spectrum voleva sottolineare la capacità di visualizzare immagini con un ampio spettro di colori. Comunque, il 23 aprile 1982 iniziò ad essere venduto a partire da 125 sterline, divenendo in fretta uno dei principali antagonisti del Commodore 64, visto che il Commodore 64 costava di più. Il Sinclair ZX Spectrum fin da subito ottenne critiche molto positive. Il motivo principale era dovuto al prezzo di vendita basso, quadrivato da un hardware che gli conferiva buone prestazioni anche in gaming, anche se alcuni utenti lamentavano il fatto che andava in blocco a causa del suo riscaldamento. Sul lato software, il Sinclair ZX Spectrum si prestava molto bene alla programmazione e sviluppo. Nel giro di poco tempo si crea un'ampia libreria di applicazioni e giochi. Ancora oggi alcuni appassionati sviluppano software per il Sinclair ZX Spectrum. Negli anni seguenti vennero creati nuovi modelli migliorati tipo il Sinclair ZX Spectrum Plus e dal 1986 la produzione passò ad Amstrad che creò ulteriori nuovi modelli. Inoltre all'epoca vennero creati innumeribili croni del Sinclair ZX Spectrum. Un esempio sono i croni sovietici tipo il Dubna 48K. Alcuni definiscono il Commodore 64 come il computer dei computer, mentre altre parti del settore lo definiscono come il computer che digitalizzò le case. Infatti moltissime persone all'epoca possedevano un Commodore 64. Gli elementi che ne decretarono il successo erano molteplici, a partire da una campagna marketing molto aggressiva e mirata. Era facile da produrre, cosa che comportava un prezzo contenuto di vendita. In commercio si potevano trovare molti accessori e periferiche d'espansione, mentre a livello software si poteva contare su un'enorme quantità di programmi e soprattutto giochi, cosa che portò il Commodore 64 a rivaleggiare con le console. Inoltre, a detta di chi l'uso, programmare con il Commodore 64 era una gioia perché il Commodore Basic era semplice da capire, anche per chi non era molto esperto. Nel giro di pochi anni, grazie al suo prezzo e alle altre prestazioni, divenne rapidamente il re delle vendite, battendo i rivali Atari 400, Atari 800 e l'Apple 2. Il successo fu talmente enorme che divenne il computer più venduto della storia, con circa 30 milioni di unità prodotte. Questo record è entrato nel Guinness dei primati. Commodore 64 Magic Desk E tutto è più semplice perché punti un dito e scrivi, punti un dito e archivi, punti un dito e stampi. Più facile di così e con Commodore ha i 100 e 100 programmi didattici, gestionali, per manager. Commodore 64 Ora che ce l'hai, visto che ci fai Commodore Dell'Apple 1 Infatti l'Apple 1 veniva assemblato nel garage di Steve Jobs. Comunque l'Apple 2 fu uno dei primi computer al mondo prodotti in serie di maggior successo. E' anche uno dei più lungivi nella storia, visto che venne venduto dal 1977 al 1993. E' giunta la mia ora In 1987 uscì l'Apple Platinum 2E, con tastierino numerico integrato e con 128 KB di memoria RAM di serie. Il pranzo dall'aperitivo all'amaro non è stato pulito d'ufficio. E' scomparso per cause naturali. Ok, ok tutti, è tempo di tornare. Apple ha capito che il lavoro è qualcosa di diverso. Ecco perché ha fatto i personal computer più avanzati del mondo. Presto ci saranno solo due tipi di persone. Quelli che usano i computer e quelli che usano Apple. Atari, quando presentò la serie di computer Atari 7T nel 1985 spiazzò un po' tutti, perché nessuno se lo aspettava. Comunque in poco tempo, soprattutto in Europa, divennero molto apprezzati, mentre negli Stati Uniti ottennero un po' meno successo, a causa della diffusione dei computer del tipo IBM compatibile e i computer della Apple. Il computer che venne maggiormente apprezzato della serie Atari ST fu l'Atari 1040ST, una versione migliorata e con più memoria dell'Atari 520ST. L'Atari 1040ST inizia ad essere venduto dal 1986. Di serie offrivano CPU Motorola 68000 e 1MB di RAM. Il fatto curioso è che questo computer divenne il primo computer ad offrire 1MB di RAM, a meno di 1000$. Di solito, all'epoca, i computer con 1MB di RAM costavano più di 2000$. Per quanto riguarda il comparto video, l'Atari 1040ST, come del resto tutti i computer Atari ST, erano meno performanti di rivali Amiga, dotati di coprocessori grafici, per capacità video avanzate, ma non per questo vennero snobbati in ambito gaming, visto che vennero creati molti giochi per gli Atari ST. Il sistema operativo degli Atari ST era l'Atari TOS, che aveva un'interfaccia grafica molto simile al Macintosh. A causa di ciò, venne soprannominato Jackintosh. Il nome deriva da Jack Tremiel, al tempo presidente dell'Atari, e dal nome Macintosh. L'Atari 1040ST divenne molto famoso anche nel settore musicale, sia professionale che amatoriale, visto che aveva porte midi ed il comparto audio era di buon livello. Un po' di tempo dopo, per ovviare l'assenza di un coprocessore video per capacità video avanzate, Atari presentò il 1040ST, che implementava un chip Blitter con capacità video avanzate. Anche altri computer Atari ricevettero questo upgrade, però gli sviluppatori di giochi integrarono poco l'utilizzo di questo chip, perché quando venne implementato ormai era troppo tardi. It's a myth that the IBM PS2 has the most memory for the money. Atari shatters that myth. Fact is, the 1040ST has 50% more memory, and it sells for a lot less. It's a myth that the Amiga has the most memory for the money. Atari shatters that myth. The 1040ST has a huge 1 megabyte memory, twice the memory of the Amiga. Face the fact that the Atari 1040ST is powerful and affordable. Atari shatters from myth. Dalla metà degli anni 80 si stavano imponendo sempre di più i PC a 16-bit, anche in ambito domestico. Allora Commodore, per rimanere al passo con i tempi, nel 1984 decise di acquistare la Amiga Corporation. Da questa acquisizione nacque la mitica serie di computer Amiga. Il primo fu l'Amiga 1000, venduto dal 1985 al 1987, ma quello che rimase e rimane nei cuori delle persone fu l'Amiga 500, venduto dal 1987. L'Amiga 500 era il successore dell'Amiga 1000, ma costava meno ed integrava la scheda madre direttamente nella tastiera, mentre a livello hardware, come sull'Amiga 1000, si trovava il processore Motorola 68000 ai vari coprocessori per gestire l'audio e video, mentre come sistema operativo si trovava l'Amiga OS. L'Amiga 500 divenne famoso perché non costava molto, era un computer potente, veloce e soprattutto adatto al gaming, mentre come l'Amiga 1000 il sistema operativo Amiga OS offriva multitasking con prelazione e un'interfaccia grafica del tipo WIMP. A livello video, l'Amiga 500, alla risoluzione di 640x512, poteva visualizzare contemporaneamente fino a 16 colori, da una palette di 4096 colori. Per i tempi era una caratteristica molto avanzata, anche l'audio stereofonico 8-bit era molto avanzato per il periodo. In seguito, nel 1991, dell'Amiga 500 venne creato anche il modello potenziato, chiamato Amiga 500 Plus. Home computer, dazzling animation at your command. I am the Commodore Amiga 500, a multitasking home office in your hand. I am the Commodore Amiga 500, total home video you control, and arcade quality games in stereo. And now, you can be everything I am. Many other models available. See your full service, authorized dealer, Mater Business Machines. Apple, quando nel 1984 introdusse il primo Macintosh, fece un gran successo, grazie alle varie novità che portò, tra cui il sistema operativo dotato di interfaccia grafica, cosa che prima ne erano dotati solo i PC professionali. Però in seguito, Apple, a causa delle dimissioni di Steve Jobs e di alcune scelte sbagliate, iniziò a vendere sempre meno. Questa crisi si risolse solamente parecchi anni dopo, quando alla fine del 1996 Steve Jobs tornò in Apple. Sto tornando, merdi! Da subito fece grandissimi cambiamenti all'interno dell'azienda, rivoluzionando i prodotti Apple. Da questo cambio di marcia nacque l'iMac G3, un PC che si distaccava molto dal passato, a partire dal design a goccia, disegnato dal nuovo designer Jonathan Ive. Infatti Steve Jobs voleva puntare tantissimo su questo aspetto. Inoltre, per velocizzare e semplificare la progettazione delle varie parti dell'iMac G3 ed i successivi computer alla Apple, vennero utilizzati per la prima volta software di disegno CAD e macchinari a controllo numerico. Comunque, nel 1998 l'iMac G3 iniziò ad essere venduto. Da parte della critica ottenne recensioni contrastanti. Alcuni lo definivano un azzardo da portare Apple quasi al fallimento, vista l'assenza di porte seriali e floppy. L'iMac G3 era dotato di lettori CD e porte USB. Il mouse e la tastiera erano scomodi da usare. Per alcuni le prestazioni erano sottodimensionate. Mentre altri recensori lo definirono un prodotto rivoluzionario e di facile utilizzo. Per quanto riguarda le vendite, ottennero fino dal primo giorno un gran successo. Nelle prime 6 settimane vendete circa 278.000 unità ed in seguito continuarono a crescere. In totale le unità vendute fino al 2003, anno della sua dismissione, risultavano essere di circa 5 milioni. Internet app相ssor I computer che vi abbiamo mostrato oggi sono alcuni tra i migliori computer creati. Attualmente vengono usati solo da qualche appassionato, visto che sono stati superati da computer più potenti, ma in ogni caso in futuro si continuerà a parlare di loro. Se avete posseduto uno di questi computer, avete informazioni ancora più dettagliate o volete suggerire altri computer per la seconda parte che faremo più avanti, piccolo spoiler, inseriremo il mitico Olivetti M24. Non esitate a scrivere le vostre esperienze nei commenti. Inoltre se vi è piaciuto il video mettete like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. È tutto gratuito e ci darete una mano a farlo crescere. Grazie! Grazie a tutti!